Penso che questo ciclo di pre-festival sull'intelligenza artificiale non poteva essere iniziato e non è una piaggeria in modo migliore se non per l'appunto con un intervento sull'intelligenza artificiale e la sfida per il transumanesimo. Ebbè, non solo, ma per chi lo tiene, vale a dire una specialista di problematiche bioetiche che non ha certo bisogno di presentazione, infatti Lourdes Velasquez o Lulu per gli amici, ha una nota, è ben nota tra gli specialisti di bioetica ma anche tra gli studiosi di filosofia in Italia proprio perché accanto ad una formazione a Città del Messico ha una formazione all'Università di Genova, un insegnamento all'Università di Genova e alla Cattolica di Milano e adesso è da tempo professore ordinario presso il Centro Interdisciplinare per la Bioetica dell'Università Panamericana di Città del Messico. Continuano però le sue collaborazioni a livello internazionale, è stata vicepresidente della Federazione Internazionale delle Società Filosofiche, ne ha presieduto o forse ne presiede ancora la Commissione per la Bioetica e quindi ecco una sua presenza a livello internazionale e a livello nazionale italiano molto molto forte, molto solida e quindi ecco l'argomento di questa sera è un argomento centrale, sono certo che avrà modo di svilupparlo nel migliore dei modi, certo in un momento nel quale non facciamo che aprire il giornale, i quotidiani e leggere di intelligenza artificiale e dei progressi di questa intelligenza artificiale, tra virgolette, perché una buona definizione è sempre di là da venire. Certo che le reti neurali crescono sempre di più, abbiamo assistito tutti quanti alle notizie sugli impianti cerebrali, dei microchips della Neuralink, ma non è la sola realtà quella di Musk che si è avviata su questa strada, percorsi e pare con dei risultati già ben definiti, sia quella che le altre esperienze, soprattutto e per fortuna per ora risultati che si sono avuti con impianti su persone con disabilità che hanno ottenuto dei risultati non da poco e che negli ultimi casi addirittura con la mente riescono ad operare spostamenti di cose o a controllare cose. Badate bene che anche qui si apre un territorio nuovo, avremo modo di parlarne, ma è chiaro che nella tematica del transumanesimo questo diventa un argomento forte, non soltanto con quello dell'abbattimento della vecchiaia o altre cose di questo genere. vale a dire il fatto, la possibilità di penetrare il pensiero umano, raggiunta con dei meccanismi non agevoli, ma raggiunta e dal Giappone e dagli Stati Uniti per due percorsi completamente diversi, ma sempre con l'inserimento dell'intelligenza artificiale. E da qui ovviamente la necessità di nuove regole e tutto quanto è in pieno movimento. Ma non voglio rubare tempo e do subito la parola alla relatrice che inaugura questa sera un ciclo di incontri pre-festival che dureranno fino a fine maggio e quindi avremo modo di rivederci sicuramente. Prego. Salve, salve a tutti. Sono veramente contenta di inaugurare questo pre-festival. Ringrazio tanto all'Istituto Italiano di Bioetica per l'invitazione in particolare alla professoressa Luisella Battaglia. Ringrazio anche la presentazione del professore Valdini, il quale ha citato che sono stata vicepresidenta della Federazione Internazionale delle Societe di Filosofia e attualmente continuo a coprire l'incarico del presidente della sezione di bioetica. A questo rispetto, prima di cominciare la relazione, vorrei dire una cosa importante. Per noi filosofi, il Congresso Mondiale di Filosofia sono come le nostre Olimpiadi. Le facciamo ogni cinque anni. E dopo tantissimi anni, quest'anno ci sarà nuovamente la sede a Roma. Cioè, in agosto del 2024, il Congresso Mondiale di Filosofia avrà sede alla città di Roma. Abbiamo, fino a questo momento, circa 2.700 persone già iscritte. Abbiamo la sessione di bioetica, di etica della medicina e abbiamo ancora tutto il mese di marzo per chi vuole inviare le proposte e partecipare con una ponenza, con un paper. Io avevo pensato soltanto che adesso non c'è la professoressa Battaglia, ma lo dico a voi. Se volete anche organizzare una tavola rotonda di un tema che sia caro all'istituto, visto che il tema del pre-festival è l'intelligenza artificiale, si può ancora, siamo ancora a tempo, di inserirla e di portare, perché parte della ricchezza che ti da stare con altri colleghi di altre parti del mondo, ti dà anche una piattaforma per far vedere cosa stai facendo e come lo stai facendo. E soprattutto potremmo anche parlare del festival della bioetica. Detto questo, cominciamo già con l'argomento di questa sera. Guardate che ci sono tante le sfide dell'intelligenza artificiale per il transumanismo. Io non posso parlare di tutto il materiale per tutta un'intera settimana. Allora ho scelto qualcuna e io l'avrei chiamato la parte oscura dell'intelligenza artificiale, perché parleremo di quelle che mi preoccupano di più. Ci sono tante, ma almeno parleremo di quelli dell'ambito medico, dell'ambito della ricerca, dell'ambito sociale. Una specie di collage, un po' di tutto, per dare un'idea generale. Certamente parleremo anche di questi impianti alla testa o di altre parti di cui si hanno già segnato, per vedere cosa sta succedendo. Perché, come si ha detto, tutti stanno parlando di intelligenze artificiali. E che non è una novità. Scorgersi che ogni giorno la tecnologia avanza, non ci sono limiti. Possiamo scegliere qualunque argomento. E quando indaghiamo un po' di più, ci stupiamo nel vedere, che negli anni scopriamo cose che pensavamo sarebbero accadute tra diversi dicenni, ma che oggi sono qua. Che noi pensavamo che erano una utopia. Invece non lo sono. Io mi ricordo, per esempio, quando io era bambina, tanti anni fa, ma non tantissimi che uno possa dire, chissà, quando... Mi piaceva tantissimo un cartone animato, non lo so se in Italia c'era, della Hanna Barbera, che si chiamava lo supersonico. E parlabano del futuro. E parlabano delle classi online, delle videotelefonate, del home office, delle mascarine, della videoconsulta col medico. Io dicevo, quel futuro magari lo vedranno i miei pronipoti. Invece no. Quello di cui parlava questo cartone animato dello supersonico, basta vedere cosa è stato nella pandemia. Io le mie lezioni le facevo online, il contatto con la mia famiglia era per videochiamata, portavamo le mascarine, qua avevano la domestica, la badante, che era un robot. In il cartone animato si chiamava robotina. Io ho visto per ragioni di sicurezza, di proteggere la salute, quello che volete, i camerieri erano già dei robot. E noi in chissà che ristorante, anche qua al Gran Café di Rapallo ce li trovavamo già così. Allora tutto quello che ci sembrava così lontano, adesso lo abbiamo qua. Ma qua non è un problema. Cioè, però sì ci crea dei dilemmi. Io in particolare vedo un dilemma molto importante. C'è questo. E l'uomo davanti a tutto questo progresso, si trova sempre di fronte alla domanda se ciò che può essere fatto, deve essere fatto o meno. Siamo sicuri che tutto ciò che è tecnologicamente possibile o che lo sarà in un futuro, deve essere perseguito e applicato a ogni costo. Al centro di questo dibattito c'è la misura in cui è legittimo alterare aspetti già non della salute. Perché penso che la medicina ha cambiato in un certo senso di paradigma. non è già soltanto curare, sino adesso è anche trasformare. Osea, alterare aspetti non di salute ma strutturali della nostra specie. Come può essere il sistema intellettivo, il cognitivo o anche il volitivo. e adesso che parlavamo nella presentazione proprio di questi impianti che si fanno, a me mi veniva in mente, per cui volevo parlare, questo del Gifton, che si mette un'antenna artificiale. vediamo se vi lo posso far vedere, non ho detto, ma se no fa niente, tanto se lo racconto, vi lo racconto. Lui si è messo questo impianto nella testa per percepire dei colori. Lui era dal tonico, non vedeva, salvo che certi colori. E poi, aspettiamo, no, non riesco a farlo vedere, però fa niente. Vi ho lasciato qua anche l'inlace di youtube, se lo volete vedere poi in un secondo momento. e allora si ha messo questa antena come se fosse un organo proprio, come qualcosa che sembra che adesso parte, perché le aiutava non soltanto a percepire i colori, sino addirittura a percepire già certe cose come messaggi che le arrivano da diverse parti del mondo. Vedo che qua, chissà cosa ho combinato per voler farlo. vedere il video, ma lasciamo perdere il video. Ci sono tanti comitati di etica, di bioetica, che le hanno detto ai medici questo non si può fare, questa è una folia, non si fa. Invece ha trovato, fino ad adesso non si sa chi ha fatto l'intervento, un gruppo dei medici che ce l'hanno fatto. Ce l'hanno fatto nel 2004, fino ad adesso non sappiamo chi ce l'aveva fatto. Dicono che non è stato solo un chirurgo, ma tanti va bene, quello è un'altra cosa. E le hanno portato questo eibor e, come vi diceva recentemente, questo upgrade e ora le consente a Neil di accedere a internet, di ricevere delle telefonate direttamente nella sua testa. e allora uno dice, va bene, qua ci sono tante cose che dobbiamo chiedersi. Non tutti possiamo fare queste cose che ha fatto questo nostro amico Neil. E qua è quando entra la bioetica. Entrano certi piantamenti bioetici. Prima di tutto, perché queste sfide di se si può fare o non si può fare cose come queste, sono le sfide che ci portano i progressi tecnologici, però che devono essere affrontate in ambito filosofico, in ambito biologico, in ambito giuridico si può, è autorizzato, non si può, in ambito ecologico, in ambito sociale, in ambito medico, in ambito psicologico. vedete quante discipline ci sono immerse e farlo in questa maniera, mettere tutte queste discipline per trattare di dare una risposta è un compito della bioetica. Perché la bioetica è interdisciplinare e noi debiamo cercare risposte interdisciplinari a tutto questo. La bioetica analizza il modo in cui un particolare intervento influisce sulla persona cui viene applicata la scienza e la tecnologia. Cioè, solleva una serie di questioni etiche. Si chiede anche in che modo questo tipo di intervento salva l'integrità delle persone, salva la vita e la salute. Come vengono rispettate la giustizia e l'igualianza? Perché, torniamo a dire, non tutti ce lo possiamo permettere. E poi è giusto farlo quando in tanti paesi del terzo mondo i bambini, prima dell'anno d'età la prima causa di mortalità è la diarrea. Invece ci stiamo questionando se mi posso mettere una web camera per vedere certi colori. dove c'è la giustizia? Perché non tutti avranno i mezzi, le risposte per poterlo fare. Se vogliamo innovare, è giusto che la bioetica globale si chieda questo. Per cosa e per chi? però questo che ha fatto questa persona, Neil, non soltanto l'ha fatto lui, l'hanno fatto altri, in diversi organi del corpo. di dove viene questa voglia di perfezionare più in là dell'umano? È vero, nella natura dell'uomo essere sempre migliore. Ma quello di correre come una lepre, avere una vista di aquila, questo desiderio di perfezionare altro all'umano penso che soltanto lo possiamo capire attraverso il transumanismo. Cioè perché il transumanismo è il mezzo per raggiungere questi obiettivi di perfezionare le specie, di cambiare addirittura la natura dell'uomo. Cosa è il transumanismo? Voi lo sapete, meglio di me comunque lo ricordiamo, è questo movimento culturale, intellettuale e scientifico che affirma il dovere morale di migliorare le capacità fisiche e cognitive delle specie umane e di applicare nuove tecnologie all'essere umano in modo, attenti qua, in modo da eliminare gli aspetti indesiderati e non necessari della condizione umana. Quali sono quegli aspetti che noi desideriamo avere? O quegli aspetti che secondo i transumanisti tutti vogliamo eliminare? La sofferenza e la malattia, l'envecchiamento e la condizione umana mortale. Stop! Eliminare la sofferenza e la malattia. Veramente la vogliamo eliminare? Si ci pensiamo, la malattia è consecuenciata della nostra vita, della vita corporale. Il corpo sia male, invecchia, si muove. Per esempio, eliminare questo processo naturale e eliminare la sofferenza. Voi siete sicuri che vogliamo eliminare la sofferenza? Io non la vorrei eliminare, sinceramente. perché la sofferenza si, ci fa vulnerabili, però ci rende migliori in alcuni momenti della nostra vita, ci fa crescere, ci fa maturare. Tanto è vero che la malattia, già dai tempi di Grecci si parlava che aveva che vedere con il corpo e la sofferenza con la mente. che la sofferenza era parte dell'espirito e la malattia del corpo. E io penso che fino adesso è così, perché io trovo dei medicinali per il mal di testa, per supprimere certi dolori e tutto. ma fino adesso non ho trovato mai nessuna pastiglia, nessun medicinale che mi leve la sofferenza. Non voglio che mi venga neanche tolta. Qua mi racconto, fra parentesi, il verso di un poema del mio poeta preferito, un poeta spagnolo, andalus, che si chiama Antonio Machado. In uno dei suoi poemi, Machado dice, non sopporto più il cuore, perché è una espina che si è impiantata nel centro del mio cuore. E poi dice, finalmente l'espina se n'è andata, ho trovato un nuovo amore e l'espina è uscita. Ma, oh, adesso non sento più il cuore. È un'analogia che ci fa capire, sì. Puoi eliminare la sofferenza? Non lo sai. La vogliamo eliminare o è quello che ci rende umani? E l'invecchiamento? Anche qua, io non sono tanto d'accordo. E l'invecchiamento, io mi maraviglio, eh, credetemi. Quando ai miei studenti chiedo, vi piacerebbe avere 50 anni? Chi piacerebbe avere 50 anni? E tutti mi guardano così, tutti dicono no e nessuno alza la mano. Stanno dentro un planteamento trasumanista. Sono già trasumanista e non vogliono l'invecchiamento. Quando prima essere vecchio era sinonimo di essere sallo. Si doveva avere una certa sallezza per poter essere un capo famiglia, per poter essere un capo di stato, per essere il capo di una tribù. Chi lo era? La persona più vecchia. Adesso sembra il contrario. Quasi, quasi essere vecchio è come avere la letra, scusatemi, dentro del planteamento trasumanista. No, non lo vogliamo. E vogliamo allora il maximo sarebbe del transumanismo passare al posumanismo e eliminare la condizione umana mortal del uomo. Che il uomo non fosse più mortal, che fosse un mortal. Il prolungamento della vita. Vogliamo questo prolungamento della vita? Cosa accaderebbe? Se non morissimo. Avrebbe senso essere qua, questo pomeriggio, a sentirci? No, perché? Se abbiamo tutta la vita. Estabilire un rapporto. No, perché? Io penso che l'essere mortale, fra le tante cose, ci mette anche fretta per fare. Per pensare di avere tutta la vita, io non lo vorrei. Invece ci sono già tanti progetti, come il progetto Reanima, che se una volta possiamo, parleremo anche di quello e di tutte le questioni noetiche di questo progetto, in cui quello che si sta provando a fare, quelli con morte cerebrale, trattare di portarle alla vita. Però non ci fermiamo, non ci fermiamo più in questo. Soltanto io mi chiedo, ma cosa potrebbe danneggiare l'uomo e la società, minacciando, di sfruttare la sua salute in vista di possibili ipotetici scenari futuri? La generazione di bambini perfetti e l'aumento delle prestazioni fisiche, eccetera. È proprio quello che vogliamo. Quali sono i principi trasumanisti? Dice, l'umanità sarà totalmente trasformata dalla tecnologia. È necessario una mente aperta. Superare ed espandere tutte le capacità umane per arrivare a un obiettivo finale. E l'obiettivo finale è diventare postumano, cioè oltre alla natura. Per quello lo rendersi immortale. Per i trasumanisti esiste un imperativo etico per cui gli esseri umani devono luttare per il progresso e per il superamento di sé. Dicono che l'umanità dovrebbe entrare in una fase, diciamo, post-arguaniana di esistenza in cui gli esseri umani dovrebbero controllare l'evoluzione e le mutazioni causali dovrebbero essere sostituiti da cambiamenti guidati dall'autodeterminazione e della razionalità. Cioè, dicono in poche parole, la tecnologia deve fare parte dell'identità dell'essere umano. Ma cosa può accadere quando la sfida tecnologica va altra all'impensabile? Perché già lo stiamo constatando che oggi l'uomo sembra aver interpreso un nuovo cammino verso questo obiettivo, cioè quello di diventare una macchina. Ci sono fattori dell'intelligenza artificiale che prevedono un futuro in cui uomini e macchine si fonderanno in Sirvok. Un vero e proprio cambiamento antropologico, non solo culturale, nella comprensione dell'uomo, della natura, della vita e del mondo. E sono in giochi i paradigmi stessi della vita associata per creare una società perfetta, pacifica e tecnologica, abitata dai cittadini aseptici, dall'aspetto androgeno, il cui equilibrio psico-fisico è garantito da impianti sintetici in cui le relazioni sono sempre più virtuali e gli individui sempre più soli e spersonalizzati. E non è una cosa che dovrà accadere. Purtroppo sta accadendo. Siamo più soli, più spersonalizzati. Lo vediamo anche con queste nuove malattie. Io vorrei parlare, per esempio, brevemente di un ambito, nel ambito del lavoro. Cosa accade? Esistono già attività lavorativi che vengono svolte quasi esclusivamente attraverso l'uso di apatriature informatiche. Già non con i colleghi, già non nell'equipo di persone, no. Tutto con l'informatica. Questo può causare veramente notevoli problemi di salute alle persone che svolgono queste attività con un uso massiccio di computer, internet, email, software, messaggistica, whatsapp, skype, tutto quello che vogliono. che volete ricordare, gestione e così via. Tutto. Però non possiamo andare altre le capacità umane perché questo ci sta danneggiando. Questo può portare a fenomeni come il tecno-stress, la dipendenza di internet e l'email edition che è una dipendenza all'uso impropriato della posta elettronica. Il tecno-stress, in che consiste? Questo indica questo disturbo legato all'uso costante stratificato delle nuove tecnologie, in particolare dell'informatica. Il numero di persone ossessionate del controllo costante del smartphone è in aumento. Dovremmo riflettere sugli effetti nocivi che l'uso di internet e dei telefoni cellulari ha sul comportamento e sulla psiche. Io sono sicura che adesso tutti quelli che mi stanno ascoltando ce l'hanno, se non ce l'hanno in mano, ce l'hanno in la tasca. Non possiamo già vivere senza di loro, sono già parte nostra. In virtù della plasticità del nostro sistema nervoso, la ripetizione di attività mentale come scrivere sms, messaggi di chat o controllare la posta elettronica rafforza alcuni circuiti del nostro cervello, trasformando come abitudine, soprattutto nei più giovani, che possano questi comportamenti rigidi che vengono introiettati come abitudine, soprattutto creare delle patologie. E non è che io mi inventi che questo del tecno stress è una patologia. No! Anche in Italia è stato già riconosciuto come una malattia professionale. La sentenza è della Procura del Torino del 2007, che scaturisce l'uso eccessivo e simultaneo di informazione digitale veicolate ai video schermi. Dice textualmente, è una malattia professionale, nota velata, ma è un rischio concreto nel lavoro moderno in cui tutti usano il computer, il telefono cellulare, il tablet, internet e i flussi enormi di informazione digitale. Come qualunque malattia deve avere una sintomatologia. Quali sono i sintomi più comuni del tecno stress? Sono vari, che possono cominciare dal mal di testa, all'ansia, all'impertensione, all'attacchi di panico, alla diminuzione della concentrazione. Ogni giorno cresce più il numero di deficit di attenzione, non solo negli giovani, ma anche negli adulti che prima non lo avevano. La depressione, il calo del desiderio sessuale, ai disturbi gastrointestinali, cardiovascolari, perché controllare obsessivamente l'email ogni due minuti, stare tutto il giorno sui social media, camminare per strada con gli occhi incollati allo smartphone, e altre manifestazioni comportamentali possono indicare una tendenza all'uso compulsivo della tecnologia, per non parlare della cosa più brutta, della cosa più grave, che è l'esplosione relazionale e dei cambiamenti comportamentali. perché, come vi diceva, il nostro smartphone è diventato già parte di noi, è già parte della nostra memoria. quindi ci fidiamo più alla memoria di questo che alla propria. Qualche anno fa sono sicura che se io vi chiedeva il numero di telefono di vostra madre, di vostra socia, di vostra moglie, qualche amico, lo sopevate a memoria. Adesso neanche io stessa sarei in grado di dire qual è il numero di mia mamma, perché mi fido, io scrivo soltanto mamma, papà, penso che anche quello di uno dei miei figli lo soffrò a memoria, ma basta, no? Invece adesso questo è la nostra memoria, li scarichiamo parte delle nostre conoscenze su quel dispositivo, così come le nostre agende, i compiti di portare a termini, gli appunti scolastici, persino la lista della spesa del supermercato. Con questo diapositivo elettronico è diventato parte di noi, del nostro corpo, senza averci messo questa antena nel cranio, ma già questo lo abbiamo quasi incollato alla mano. La cosa più triste di cui riporto questo dato che lo ha pubblicato anche la stamba del Save the Children, che dice che la dipendenza dal cellulare e l'uso dello smartphone inizia già a sei anni, nella grande maggioranza, perché io ho visto bambini ancora più piccoli che già lo stanno i genitori e dicono, ma guarda che maraviglia, lo sai utilizzare, lo sai usare, con grande orgullo, bambini di due o tre anni. E la sfida adesso, la sfida per un ser humano, oggi è essere più interessante di un smartphone, veramente. sono stati due giorni fa, una scena della FIDAPA, e un psicologo che era con me a tavolo me diceva che adesso i problemi più grandi o grossi di una copia non sono già il tradimento, no, il uso del smartphone, perché vanno a letto con il smartphone. Non si girano a guardare la compagnia o a guardare il marito perché stanno così. e quando si alzano la prima cosa o prendi dal comodino sotto il cucino il smartphone. Il vero amore e la mancanza del desiderio di controllare il proprio smartphone in presenza dell'altra persona è diventato una sfida, veramente. Per non parlare adesso di questo che ultimamente avremmo sentito, anche voi avete sentito il telegiornale, perché prima non si parlava tanto, adesso si parla, ma questo esiste almeno da dieci anni, che poi con la pandemia il aumento è stato proporzionale, tantissimo, che sono i ragazzi hikikomori. Questo termine viene dal giapponese, non una specie di sushi, no, vuol dire stare in das parte, cioè ragazzi che si isolano. Consiste nel chiudersi in camera passando il tempo su internet o a giocare ai videogiochi fuggendo quindi del mondo reale per rifugiarsi in quello virtuale. Questi ragazzi hanno un'età più o meno compresa fra i 12 e i 30 anni, la grande maggioranza, ma non solo. Non escono da casa, sono incapaci di gestire le proprie emozioni e tendono a vivere isolati nella propria stanza per mesi o anni e iniziano a sentirsi inadeguati verso la società. Non si piacciono neanche più fisicamente. Quello che noi uscivamo a dare una passeggiata, i ragazzi a giocare a calcio, al pallone, tante volte le dici, questi ragazzi, no, tutto è nel suo mondo virtuale. Hanno giocato attraverso un computer, un smartphone. E c'è anche parallelamente un'altra tipologia di questi hikokomori, quella che tende all'opposto, cioè al narcisismo. Ragazzi che lo stesso sono isolati, che lo stesso passano dei mesi chiusi nella loro camera, ma che si considerano talmente superiori rispetto ai coetanei da non riuscire a confrontarsi con nessun altro. Il progressivo isolamento della realtà e la fuga verso il paradiso artificiale porta a relazioni sempre più egoisti, più artificiali che si svolgono sempre sul web o sulle redi sociali, perché a volte non si sente nemmeno più il bisogno di conoscere una persona. Basta un messaggio, un whats, una videocamata o una chat per riempire qualche vuoto affettivo. Cioè la comunicazione online rende molto più facile non assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Quando uno non sa come comportarsi con un datore di lavoro, con un compagno, con un amico, basta blocchiarlo. Cioè, poi a parte che su internet e tutto uno si può presentare come uno gole. Però quando veramente ti trovi in difficoltà, smette di rispondere, silenzia lo chat, lo blocchiai direttamente e uno dice, adesso io come mi comporto dopo che questo mi ha bloccato? Perché io sono incapace anche di gestire queste cose. In futuro allora vedremo crescere i rapporti umani vissuti interamente online. E se adesso è preoccupante e ci sono tanti che lo stanno facendo, in futuro si dice che praticamente saranno tutti. E alcuni cominciaranno a preferire il sexo virtuale, tecnologicamente avanzato, al sexo con gli umani. Potremmo vedere anche più persone che vivono da soli passare più tempo nella realità umana, nella realità virtuale, come abbiamo visto con questi ragazzi hikikomori. non mi credete di questo del sexo virtuale, ci sono già i primi prototipi sul mercato disponibili, interagiscono con gli esseri umani al punto di poterle sostituire non solo a letto, che vedremo come ci sono, ma anche nei ruoli più insospettabili come può essere proprio il di una mole. Queste persone che utilizzano questo, così come c'è il termine di hikikomori, ce le ha dato un nome che si chiamano edici sexuali, che sono quelli che scelgono di fare il sexo solo con i robot, senza fare il sexo con gli esseri umani. e l'industria del sexo con i robot del Haitish oggi ha fatturato, sentite la cifra, circa 30 miliardi di dollari al anno, e un mercato in costante crescita. C'è questo cinese di nombro impronunciabile, chiedetemi come si pronuncia, ce l'ho descritto lì, c'è il Shanghai, chissà cosa, che è uno dei primi egezuali che hanno esistito nel mondo. Lui già dal 2017, questo ingegnere, che allora aveva 31 anni, ha sposato una robot creata da lui. Dopo aver detto che per diversi anni aveva cercato una moglie, ma aveva fallito sempre la ricerca umana, e allora è andato in una specie, come diciamo, di comune del registro civile, e il matrimonio è stato validato. E lui è sposato con una robot. Poi io mi chiedo, poi quando si stanche da quella robot, viene buttata, e allora quali saranno le conseguenze? Avrà diritto, non avrà diritto questo robot? Ci sono tante cose che bisogna uno chiedersi. Poi ci sono, non soltanto questi DJ sessuali, diceva per avere una moglie, ci sono già i bordelli con prostitute. Ci sono questi prostituti di silicone, in Torino, a Barcellona, a Mosca, in Argentina, sono stati i primi, adesso ci sono anche in più parti. sono aperti dal 2018. Si chiamano questa ditta che le fa le Lumidols, dove il cliente può interagire con bambole umanoidi, i tre clienti ci sono anche coppie e donne single. Possono scegliere in anticipo quale bambole utilizzare, quale vestiti indossare, quale età deve avere, quale cadenza, quale tono di voce. Tu lo programmi e te lo fanno. Il più grande vantaggio del nuovo bordello, rispetto ai bordelli tradizionali, è che i clienti di Lumidor possono realizzare tutti i loro sogni senza preoccuparsi della contraparte o vergognarsi delle loro fantasie. quello è il slogan del negozio delle Lumidoli. Il segbo sono programati con intelligenza artificiale e sensori corporei che rispondono al tacto. Possono essere personalizzati, come vi ho detto, assimilare alla persona che noi vogliamo. Possono seguire fino a 50 posizioni preprogrammate. Adesso si annuncia in la pagina che stanno per aggiungere altre 20, di vedere se aziende le commerciano per circa 20.000 dollari, ma dicono che succederà come con il smartphone, cioè che tenderanno a avanzare il prezzo fino a aumentare la domanda Per alcuni si tratta di una semplice fantasia sessuale, altri la vedono come un modo per non sentirsi soli. Mentre l'intelligenza artificiale al servizio della prostituzione è secondo i creatori delle Lumidoli un'alternativa che diversificerà la vita sessuale, aiuterà a combattere la prostituzione e aiuterà le persone con problemi mentali. Anche io qua mi pongo altri problemi di tipo etico veramente le aiuterà queste persone con problemi mentali. Cioè, se io posso dire come voglio la mia bambola e se mi viene in mente per esempio farla come una bambina di 5 o 6 anni Allora, lì è pedofilia o non lo è? Perché lo sto facendo con una bambola? Ci sono sempre tante domande che si possono fare però andiamo avanti se no finisce quando la finiamo più. Poi ci sono quelli di cui avevamo parlato all'inizio i biohacking i biohacking che stanno di grande moda tutti parlano del biohacking che è un termine, diciamo, di recente coniatura utilizzato per indicare una sorta di reprogrammazione che riguarda tanto la mente quanto il corpo dell'essere umano. Etimologicamente è un sostantivo nato dell'unione della parola biologi e hacker, biohacking quello che altera o vulnera i sistemi di sicurezza. Vuol dire che si viene hackeato, non sono legale, non lo sono. Il biohacker non è legale. Mi diceva anche questo, Neil, non era legale che si facesse l'antena. non era stato approvato. Si fa di maniera illegale. È un movimento internazionale, li chiamano citizens, che cerca di creare una versione accessibile della biologia attraverso soluzioni tecnologiche a basso costo. e porre di più quello che mi preoccupa fuori dell'ambiente della biologia convenzionale. Cosa intendo per fuori dell'ambiente? Fuori dei laboratori, della università, delle aziende biotecnologiche. ma di differenza della biologia istituzionale, gli operatori non hanno una formazione accademica. Quello si capisce, perché se quelli che lo fanno non lo fanno all'università, non lo fanno nei laboratori, sino nel garage o nella cucina o nel suo giardino, vuol dire che una formazione accademica non c'è l'anno. E anche questo è preoccupante. Che cosa cercano i biohackers? Experimentare sul proprio corpo. Tanto il corpo è mio, io con il mio corpo posso fare quello che voglio, e allora experimento con il mio corpo. Senza è un tipo di controllo, perché tanto lo sto facendo a casa mia, casa mia io sono anche padrone di fare quello che voglio. Personalizzare l'esperimento. Si, non è soltanto fare un tatuaggio, mettere un pezzo, come il mio corpo, lo faccio io, posso fare l'esperimento personalizzato. Mettere in discussione e sfidare le proposizioni che sono state prese, come vedere fino ad oggi, cioè, cuestionare la scienza, creare visioni accessibili della tecnologia a basso costo. Non è breve, perché dice, mettiamola a livelli di tutti. non è richiesto di alcuna formazione académica, come ve lo già detto, per essere un biohacker, è una medicina di tipo domestica, così la chiamano, e si tratta di avvicinare la scienza ai cittadini. ci sono i biohacker extremisti. Questi biohacker extremisti, che vi dico, non sono già il piercing, non è già il tatuaggio, non ci sono, sono già cose molto più grandi, si chiamano i grinders. I grinders non hanno problema mettere in pericolo la propria vita, per impiantare sensori, chirurgici o led sotto la pelle, per potenziare le proprie capacità, senza attendere l'autorizzazione medica, come ha fatto niente. Non esistono a mutilarsi o a seguire interventi chirurgici fatti in casa. Cioè, io mi metterò una protesi fatta da me, ma non perché ho perso la gamba in un incidente di macchina. No! Sino perché voglio correre più veloce. Mi metto la way camera perché voglio vedere certe cose che gli altri non fanno. Mi metto in peligro la tua vita. E va bene. È la mia vita, è il mio corpo. Lo faccio. Chi sono stati gli iniziatori di questo movimento? Guardate, qua all'inizio di questi movimenti c'erano delle persone che erano veramente degli accademici. C'è Keya Hall, Ellen Jorzenhauer, Jose Sainer, che loro avevano una laurea, un dottorato di ricerca in ingegneria moleculare, biologia. e che, anzi, il proposito di loro che era avvicinare la scienza a tutti, andava bene. Ma loro sì avevano questa formazione, sì erano universitarie. Keya Hall ha lavorato all'università. Jose Sainer ha lavorato addirittura alla NASA. e loro continuano a dare conferenze, seminari, e in YouTube trovi dei tutoriali in cui ti fanno, non lo so, per esempio, ti insegnano a sapere come puoi ottenere il DNA del tuo cane. queste cose semplici si potevano fare. Perché loro dicevano che il nuovo paradigma di ripensare la scienza della salute, la biologia moleculare e la biofisica dovevamo poterlo fare tutti. Si tratta di ampliare gli orizzonti della scienza per avvicinare i trattamenti ai pazienti e rendere più accessibili alle persone le opzioni a farmaci, a impianti, eccetera. fino a lì andava bene. Però poi arrivarono questi altri che si chiamano i biohackers no convenzionali, dove sta Neil Harvison. Loro hanno cambiato tutto. Per quello che chiamiamo no convenzionali sono questi che non hanno nessun tipo di formazione académica. Il più mitico, quello che è diventato anche una leggenda è questo Aaron Treywick. Aaron Treywick che lui stava cercando un vaccino per l'HVS, per l'herpes, l'herpes opter, stava lavorando in quello, aveva chiesto al gruppo, diciamo, di paciente che seguiva di non prendere nessun tipo di medicina perché lui stava per avere un vaccino che stava studiando. questo qua è morto, è morto perché, diciamo, lo hanno ammazzato, lo hanno tutto. La realtà è che lui era in un spa, ha fatto un cocktail di parecchi alcolici di droga, le è avvenuto un infarto, però è stato mitificato eh, l'FBI, la CIA, lo hanno ammazzato in un complotto perché lui non registrasse quel vaccino. va bene, quello è l'icono dei biohacker non conversionali. E fra i più famosi c'è nel Harvinson, questo silvog di questa antena, c'è Livy Vuvatis, lui si ha messo una brusola nel petto, si è aperto, si ha messo questa brusola, che ogni volta che cammina verso il nord sente delle vibrazioni. e questo per ricordarle suo figlio morto. C'è anche una amica di Neil Harvinson, che è Mon Rivas, una performance, bailarina, lanzatrice spagnola, che si ha messo dei sensori nei piedi. Così ogni volta che baila sente le vibrazioni della terra che normalmente noi non possiamo avere e questo gli consente, secondo lei, di fare un valo più naturale. Nessuno di questi è legale. Ci sono delle regole? No, non ci sono delle regole. Gli Stati Uniti ha fatto l'esforzo di creare delle regole, ma se questo si può fare a casa tua, se questo non ha nessun controllo, per il momento il diritto internazionale non li vieta. Non c'è un'associazione? No. Per adesso no. Non è sfida anche quella. Allora, se da un lato vi sono i sostenitori del diritto al libero utilizzo delle tali tecnologie, soprattutto in considerazione del valore della libertà individuali dell'autonomia di coloro che scelgono di utilizzare, degli altri richiamano l'attenzione sui potenziali rischi, i danni non solo degli individui, ma anche per la società nel suo complesso. In quanto tali utilizzo potrebbe accentuare la discriminazione tra persone con abilità diverse, aumentando così le ingiustizie e il divario tra ricchi e poveri, come vi aveva già segnato. La sfida, la grande sfida, è come reglamentare tale pratiche attraverso standard nazionale e internazionale alla fine di salvaguardare il bene comune e proteggere le persone vulnerabili. Qua, la mancanza di ambienti sicuri per fare tutte queste ricerche, questi interventi, cioè quando stiamo giocando con l'ego e stiamo parlando di persone, cioè l'intervento sulla salute delle persone e di ricercatori che non hanno le credenziali accademiche per farlo, a me, in particolare, mi spaventa. Mi spaventa tanto. Mi va l'idea di avvicinare la tecnologia a tutti. Quello suona bene, bello, ma non fatto per gente che non è un ricercatore che non ha nessuna formazione accademica. Quello penso che può anche danneggarlo. Cosa possiamo fare? Io penso che c'è bisogno di fare delle leggi, poiché il diritto è un prodotto umano e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale cambierebbe la nostra percezione del diritto, mi chiedo. Le macchine saranno in grado di sostituirci nella ponderazione e nell'attuale quadro normativo? Dobbiamo costruire un'antropologia giuridica in cui l'uomo sia sempre il centro e non le macchine. Dobbiamo usare la tecnologia e sì criticare la scienza, come hanno detto questo Silvio, ma criticare la scienza per migliorare. Non dimenticare che la tecnologia deve essere al servizio dell'uomo, non è l'uomo al servizio della tecnologia. Ho trovato questa vignetta di un fumetto che mi piace a me in spagnolo, ma vi la racconto a breve. Questo si chiede di se edifici intelligenti, cioè palazzi intelligenti, smartphone intelligenti, macchine intelligenti, elettrodomestiche intelligenti. Ma mi chiedo io, non sarebbe meglio invertire più nell'educazione e tenere meglio più gente intelligente? E credo di sì. Come società dobbiamo discutere le questioni etiche, cose normali, cose naturali, che cose morale e che cose lecite. Dove tracciamo noi il confine tra salute e malattia? Perché, per esempio, come l'esempio della chirurgia estetica, per una persona che soffre di un lieve disagio sociale è considerata elettiva e quindi un miglioramento. Lo stesso intervento per la vittima di un incidente è considerato un trattamento. Vedete, non possiamo neanche generalizzare più di tanto, penso che ogni caso debbiamo studiarlo individualmente. e lasciamo già così il problema sociale, il problema lavorativo e tutto. E andiamo alle sfide per noi docenti dell'intelligenza. Questo GPT4, che è l'ultimo del sistema dell'intelligenza artificiale che ci consente di generare, modificare, interagire con gli utenti, chiare dei compiti, creare dei testi, creare dei temi, tante cose. anche scrivere delle canzioni. Tuttavia, il notevole progresso che ho imputi non è corrisposto un analogo progresso in termini etici. Cioè, rimane una scatola nera di cui non sappiamo dove attinge i dati che lo alimentano e lo addestrano e come li utilizza. in breve, sebbene sia stato sviluppato già il Open AI, rimane un sistema chiuso, fondamentalmente opaco. Questo impedisce, tra l'altro, un controllo esterno del funzionamento dell'algoritmo oltre alla mancanza di conoscenza del suo scopo e dei suoi usi. già i creatori ci hanno messo in alerta, ci hanno detto state attenti perché senza esplicabilità non è possibile delimitare la responsabilità né garantire l'imparzionalità e il rispetto della privacy del sistema. Soprattutto chi lo alimenta, chi le dà questi dati. E nell'ambito della ricerca, questo GPT, il cibo dell'intelligenza artificiale che sta già comparendo come autore, perché io mi ho trovato noi abbiamo una rivista che si chiama Bioethic Update di cui non soltanto facciamo parte del comitè editoriale sino che già da un anno sono la caporredditrice. e mi trovo già con articoli che mi hanno arrivati due in cui dentro degli autori si cita il GPT. E questo, come possiamo farlo? Davvero lo possiamo mettere come autore di articoli editoriali, di articoli scientifici, anche se altri editori affermano che il contributo dell'intelligenza artificiale può essere riconosciuto in seczioni diverse dell'elenco degli autori, cioè non collocarlo come autore. in ogni caso è facile commettere errori, non sempre è una fonte affidabile. ti rendi conto quando lo leggi, sembra quasi un collage o è autorevole perché mescla contenuti catturati del web di qua e di là che tanto possiamo fidarci. come gestire allora un articolo in cui collabora un'intelligenza artificiale? e che i caporedattori, sia di natural che di scienze, hanno affermato che il GPT non soddisfa lo standard di paternità in quanto l'attribuzione implica la responsabilità del lavoro, che non può essere applicata ai modelli linguistici. Cioè significa che se un autore utilizza uno di questi modelli per sviluppare il proprio articolo, il loro utilizzo deve essere documentato in un altro punto dell'articolo, non con gli autori. Ad esempio le sezioni dei metodi o del ringraziamento. Ringrazio il GPT che mi ha aiutato. Quando un'abilità viene automatizzata noi docenti che dobbiamo fare? L'istruzione deve tendere verso altre che non sono ancora automatizzate e dipendono solo dai cerebelli mentre vengono addestrati. Io già non gli posso dire sviluppami questo tema perché magari te lo fa il GPT. Non posso evaluare come magari lo faceva prima. Adesso anche noi ci dobbiamo inventare altre cose che anche il GPT ti fa il contrario. Cioè gli allievi lo utilizzano per sviluppare i suoi argomenti, i suoi temi. E c'è l'altro per noi inserirlo e che ci dica che tanta proporzione del GPT è stato utilizzato nell'articolo. Ed è dove lo ha preso. E' un circolo vicioso. Qua se stiamo arrivando alla fine parliamo solamente dell'intelligenza artificiale applicato in un ambito della medicina. Perché l'intelligenza artificiale applicata alla medicina ha un potenziale enorme. gli studi e le applicazioni pratiche si sono moltiplicati negli ultimi anni e sono destinati a crescere. In particolare è nell'ambito radiologico, oncologico, della fertilità e il cardiologico sono i principali. Diagnosi più precise, più accurate. Non devi leggerti chissà che tanto. Tu lo metti e te lo fa quello che prima si poteva passare 3-4 giorni in questione di minuti. Rimani risolto invece il quesito fondamentale se i sistemi di intelligenza artificiale possano sostituire e in prospettiva superare l'uomo. E io dico che no. Perché per essere un medico non ti va a sostituire mai una macchina. Essere un medico è più che conoscere la medicina, più che superare l'esame. Deve essere un comunicatore, deve guidare i team multidisciplinari, deve essere un accademico, un ricercatore. Ha a che fare con l'esperienza che ha con i suoi pazienti, con il ragionamento e altri tipi di principi. Non soltanto con quello che dice Google o una base di dati. No, il medico è molto più che quello. Di tutti questi che ho detto nell'ambito oncologico, il radiologico, il della fertilità, nell'oncologico, vorrei soltanto soffermarmi in uno, lo possiamo vedere tutti, che è quello della fertilità. magari con Modona è quello che mi ha interessato e che chiama più la mia attenzione. Perché l'uso dell'intelligenza artificiale ha raggiunto i centri di fertilità e la possibilità di modificare geneticamente i futuri bambini. bambini fatti con la carta come noi le vogliamo. Anche la tecnologia per ottenere gli ovuli e gli espermatozoi da altre cellule in mano sta avanzando rapidamente. anche la gestazione attraverso un robot c'è già. Un laboratorio che oggi, per esempio, ti lavorano o attra 5-10 imbriologi e nel futuro ne avrà 3 o 5. Cioè, se riduce il numero, perché anche quello non lo abbiamo visto, ma i posti del lavoro con questo dell'intelligenza artificiale certi vengono a meno. Ma ci sarà sempre bisogno, dico io, di qualcuno con criteri umani per selezionare e manipolare ovuli e gli espermi. Quello non lo potrà mai fare una macchina. Qua vi ho riportato qualche nota di prensa in cui quello che vi ho detto viene con scritto dice sono nati i primi due bambini concebiti con un robot che invietta le sperma. E il robot fecunda ovuli guidato da un controllo della PlayStation che ha concepito due bambini. E sono nati le due prime bimbe concebute per un robot. C'è un certo gruppo, adesso che stiamo vicino alla festa della donna, dei femministi che applaudono l'ectogenesi. L'ectogenesi sono questi uteri artificiali che si sono state create, sono stati sviluppati con un fine del tutto diverso. Questi uteri artificiali erano, in un inizio, all'inizio della ricerca, fatti per i bambini prematuri di estremamente basso peso o di un'età gestazionale piccola. Va bene. Allora cosa è successo? Che invece adesso questo non è così. Adesso si vede che è per evitare certi problemi alla donna, per farle l'incubatrice. Dice, guarda così, finiamo. A me quanti me lo hanno detto. Guarda, tu che parli tanto, che hai fatto tanta ricerca sulla gestazione surrogata, con quello ci togliamo il problema dell'utero in affitto. e questo può solucionare tanto. Io qua vi posso leggere soltanto di qualche femminista molto nota, in particolare di Anna Samport, che è una delle femministe più icono di questa corrente, che dice che l'utero artificiale potrebbe offrire quella liberazione dai problemi dal parto e garantire una forma di igualanza biologica a tutte le donne, anche a quelle sterili. Dice, perché con questo allora tutti potrebbero essere madri. Un'altra, l'ectogenesi diventerà una realità che segnerà la possibilità di un'evoluzione verso una vera igualanza dai sexi. Così potranno avere il figlio. Altra, Chiara Lali, dice, potrebbero scegliere di ricorrere all'utero artificiale allargando il loro spazio di libertà. Quella libertà non sarebbe solo fisica. e il peso sociale delle gestazioni, della riproduzione, effetti anche sul lavoro alle donne richiesto di scegliere tra carriere e famiglia, molto più che agli uomini. e l'utero artificiale non è certo la bacheca magica, ma potrebbe essere un modo per attenuare la disparità di gente. Quello è come la pensano. Qua vi lascio anche un enlace, perché si volete vedere come si sta sviluppando in Germania questo. Qua nel video si vedono già questo utile. guarda più o meno è così. in Berlino. Si, a parte lo puoi disegnare geneticamente. Noi è il caso che vediamo tutto. Li lascio lì l'enlace e ci abbiamo già la fine alle conclusioni. Etica, morale e intelligenza artificiale. Le macchine possono diventare morali, ma non etiche. La etica, ricordate, è universale, intersoggettiva. La morale no. La macchina non ha nessun interesse a essere morale. In altro, non è libera. Quindi non sono né etiche né morale le macchine che danno informazione senza essere filtrati da principi bioetici. Mi preoccupa l'etica o la moralità dei dati che questi esseri umani possano inserire nelle macchine. Cosa sarà inserito? Che persone li inseriranno? Non dimentichiamo che per quanto algoritmi o processi realizzati e per quanto riproduzione abbia nel mondo fisico, il suo FEDWAY, verrà sempre da un umano e in questo senso avrà sempre bisogno di un umano che la programma. E quell'uomo dovrà avere il suo modo di comprendere il mondo, il suo paradigma di comprensione della realità che introdurrà nella macchina. E se la macchina è prevenuta o meno, darà le risposte nello stesso modo dell'uomo. La magia dell'intelligenza artificiale è la velocità, sì, l'efficienza dei processi, ma non l'ingegno che è proprio dell'uomo, non della macchina. Ed è per questo che ci sono cose dell'uomo che la macchina non potrà mai sostituire. La morale, ricordiamolo, non è un elemento tecnologico, come se l'ho detto già in un'altra slide. Non è tutto così semplice. È vero che le cose si evolvono tecnologicamente, ma forse chi le gestisce non è migliorato moralmente. Io mi ricordo tanti anni fa il cellulare era enorme così, sembrava quasi un mattone, non aveva tanti dati, adesso sono piccoli, qua abbiamo come se avessimo il computer e tutto. Allora dicono sì, l'evoluzione nell'uomo è attraverso la tecnologia. Vediamo questo esempio. Però io mi chiedo, ma le mani che operano questi smartphone, questi cellulari, hanno migliorato o sono migliorati soltanto gli apparecchi? Non lo so. Non saremo dire che siamo migliori persone di prima. magari l'apparecchio sì, è migliore di quelli di tanti anni fa. Le persone, non lo so se siamo migliorati a livello morale. Io penso che quello sarebbe il vero progresso, che noi diventassimo migliori persone. allora se mi chiedono come mi chiedono i miei allievi, allora vedi che ci sono progressi? In alcuni campi sì, in altri veramente non saprei. La tecnologia non è un pilota automatico che ci renda persone migliori. Il progresso è cambiamento. Ma ricordiamo, ma non tutti i cambiamenti sono progressi. tutto ciò, perché se no poi mi dicono, ma questa è antiprogresso. No, no. Tutto ciò non implica che dobbiamo fermare il progresso scientifico e tecnologico, ma che dobbiamo armonizzarlo con la soddisfazione di un ampio spettro di valori umani. Va bene, grazie per l'attenzione. Scusate, magari mi sono allungata più che il tempo previsto, ma penso che siamo riusciti a fare un bel collage di tutti questi sfidi. Buona benissima. Grazie. Buona brava. Grazie per questa cavalcata veramente molto molto interessante. va da sé che almeno io sono d'accordo su quasi tutte le conclusioni e le aspettative espresse. Vorrei essere così ottimista su quello che è il futuro di questa problematica realtà dell'intelligenza artificiale generativa. Ora, pensate bene, il chat GPT-3 è stato rilasciato nel novembre di due anni fa. L'anno scorso, in primavera, in maggio, era già attivo il chat GPT-4. Subito spaventati da reazioni che erano state molteplici con petizioni di accademici e non, gli autori, l'autore OpenAI e il suo artefice, Sen Altman, in particolar modo, hanno detto no no, sospendiamo chat GPT-5. E ora sappiamo che chat GPT-5 è praticamente non soltanto in lavorazione avanzata, ma quasi pronto. E da parte di chi? Di chi ha gridato ripetutamente alla pericolosità di questa realtà. E allora la gente è cominciata a chiedersi ma perché questo Altman fa il giro del mondo per denunciare i pericoli dell'intelligenza artificiale? E non soltanto per le esperienze atomiche o subatomiche, per il fatto che adesso abbiamo dei possibili algoritmi che programmano algoritmi e lo fanno indipendentemente dagli uomini e ottengono dei risultati che gli uomini neanche lontanamente si aspettano. E dove andiamo a finire? Ma allora perché tu vai a denunciare questo e poi vai avanti con la ricerca? L'obiettivo l'abbiamo visto, l'abbiamo visto con le petizioni al Senato americano in particolar modo, ma anche all'Europa, il mobbing contro la legislazione della comunità europea che di certo è la più avanzata. E qual è il risultato o la motivazione che ormai è chiarissima? Vogliamo restare solo noi, gli attori di questo processo. Stiamo parlando degli uomini più ricchi al mondo, non a caso. E quindi ecco, spiegate alcune cose, ma ecco anche spiegati alcuni pericoli che per l'appunto non soltanto nelle casi private, ma nei laboratori ristretti, non soltanto allargati come OpenAI, ma laboratori minimi che ormai possono essere fattibili, e beh, si può dar vita a realtà distopiche che sino a pochissimo tempo fa facevano parte solo della letteratura. Ma non voglio rubare altro tempo, sono certo che ci sono degli interventi, dei quesiti, delle domande o quant'altro. Sarà il benvenuto. Prego. No, non ci credo, nessuno. Su una tematica così attuale, su una tematica tanto, tanto controverso. Trompo io il ghiaccio, dai. No, va. Ecco, buonasera a tutte e a tutti. Allora, intanto ringrazio la relatrice che è stata veramente travolgente, l'ho seguita proprio con grande, con grande, grande piacere. Io poi terrò la lezione successiva, per cui veramente è stato dato un avvio di progetto, che già il progetto è bellissimo di per sé, ma proprio, veramente stiamo proprio partendo alla grande. E penso che Pinuccia sarà d'accordo con me, insomma, ecco. Allora, intanto sono molto contenta perché rispetto a quello che sto preparando io, è molto complementare rispetto a quello che ha trattato l'URSS, se posso permettere, la professoressa ve l'aspetto. Ci sono degli argomenti che sicuramente andrebbero approfonditi, per esempio, tutto il discorso sui sex robot. Perché quelli, parlo anche da femminista se si vuole, giusto per prendere un tema, veramente sono un problema etico di enorme importanza ed è tenuto, cioè tra i tanti ecco, però insomma mi piace approfondire questo così non occorre neanche che lo approfondiremo in altre, perché si tratta proprio del rapporto uomo-donna che anche il nostro Paolo Groppo in altri contesti aveva tirato fuori, insomma, no? Cioè, trovare il modo perché certi comportamenti trovino sfogo attraverso l'intelligenza artificiale è veramente abbastanza, come dire, tremendo dal punto di vista etico. Leggevo anche, non so se la professoressa aveva visto, che addirittura, oltre che alle sex robot, alle LumiDoll, eccetera, costruiscono dei robottini con sembianze di bambino. Sì, che quello che io diceva, ci sono altri problemi del tipo etico che noi debiamo... Esatto, da dare in pasto ai pedofili, per esempio, no? Sì, sì, che ho detto, come la mettiamo con i pedofili, allora, sì, questo dicono che è tanto perché quella sostituisce alla prostituzione, aiuta le persone con problemi mentali. Sì, ma ci sono anche altri tipi di problemi etici, come quello che sta segnalando lei di una maniera molto chiara. A me è fatto la brividire, insomma, no? Cioè, come dire, veramente, cioè, ti producono il bambolotto, la bambolina, come vuoi tu, insomma, no? E anche là sta aumentando il mercato in maniera vertiginosa ed è una cosa che veramente fa caponare la pelle, insomma. Sì, ma neanche, non c'è più la bambolina, perché adesso la proiezione è così perfezionata che non c'è più neanche bisogno di un contatto fisico. Gli studi e le percentuali di coinvolgimento dei giovani americani, che ormai con un fenomeno che si sta diffondendo a livello, non voglio dire planetario, ma quasi, è di un adolescente, di un giovane, di 30 anni, su tre. Uno su tre coinvolto in manifestazioni, in rapporti falsi, falsificati, ma sono di questo genere. Certo. Quindi problematiche sociali enormi. Sì, enormi. Poi si evita anche così la riproduzione, perché si fa anche tutto con questo. È una problematica che mi fa piacere che senza me averci messo d'accordo con la professoressa, praticamente siamo sulla linea di un'introduzione che poi lei approfondirà di più. Sono contenta che... Di altri aspetti, sì, per cui io parlerò di altri aspetti, ma questa cosa... Di altri aspetti che si complementano e che sarà molto, molto interessante sapere questo. E poi noi parliamo degli Stati Uniti, ma guardate che i primi bordelli con questo Lumen Doll sono stati qua, in Europa. A Torino. Ci sono una prestazione, perché l'interessato leggeva, di mezz'ora con la bambola che, come diceva lei, appunto, si può scegliere anche il tipo di carattere, no? Della Lumen Doll, se deve essere, come dire, dolce o grintosa o focosa, sono tutti sensori. E sono per quelli per i masochisti, anche che quelli che possono colpire, quelle dolci, quelle sommise. Esatto, diciamo, a mezz'ora sono 80 euro e passa la paura, insomma, ecco, giusto per capire come siamo col mercato. Vedo una mano che è così sollevata. Prego? C'è chi vuole parlare, perché vedo anche una mano sollevata. Ah, non l'ho visto. Sì. Sì, ma Graziella, finisci pure. Gabriella, scusa, finisci pure tu. Sì, sì. Dopo io faccio una domanda. Ecco, e come diciamo, va bene, questo è l'estremo di quello che la professoressa chiamava la dipendenza, perché poi si sviluppa la dipendenza, no? Questo è come noi abbiamo sviluppato ognuno per conto nostro che torniamo a casa se ci siamo dimenticati il telefono, perché fa parte ormai della nostra parte bionica che teniamo in tasca e sicuramente siamo dipendenti. Queste sono appunto delle attività che a livello, diciamo, direi quasi patologico, se non patologico, come quello che si sposa al robot, la lumidola, andrebbero effettivamente controllate a tutti i livelli, no? Anche dal punto di vista medico, secondo me, perché poi cosa sviluppa una persona, no? Cioè, è un pericolo sociale, lo è, o sicuramente è per se stesso, insomma, ecco. Va bene, chiudo qua. No, io volevo porre due domande. Io non so molto di intelligenza artificiale, quindi, per tutto, mi spaventa tantissimo la questione dell'embreogenesi, ma moltissimo. Ne parlavamo con la professoressa anche Ronzoni, che vedo qua presente, perché è un tema che spaventa, insomma, a me personalmente spaventa molto, però non ne so nulla, quindi per me sarebbe proprio un tema da approfondire. Poi altri due temi da approfondire sono uno, quello del diritto d'autore, che secondo me anche quello è un tema significativo, perché, insomma, questo non riconoscimento della responsabilità della paternità intellettuale dell'opera è un tema molto importante, insomma, anche proprio per l'attività intellettuale e culturale. E lo so, l'opera di Hollywood nella prova. Eh, infatti, infatti. Questo è quindi un tema che, insomma, è interessante approfondire. Il terzo tema, invece, qui la vedo un po' più positivamente, mi è venuto in mente, mi sono venuto in mente, ma forse poi Gabriella lo affronterà lei, il tema delle smart city. E di come l'intelligenza artificiale aiuterà comunque le smart city, perché abbiamo fatto anche un po' l'esperienza anni fa a Genova, dove ancora non si parlava poi tanto di intelligenza artificiale, però effettivamente, diciamo che, dando questa ottica alla gestione delle città, in realtà i servizi delle città potrebbero migliorare tanto. Ci controlleranno meglio. Come sempre, c'è sempre poi l'altra parte della medaglia, no? Per cui analizzeremo. Ma come tutto, no? Diciamo, l'intelligenza artificiale o la tecnologia in generale potrebbe tanto migliorare il nostro mondo, sicuramente. Il nostro stile di vita, le nostre cose e così via. Darci anche la felicità, forse, no? In certi momenti. Però dipende sempre da come viene usata e come ha detto prima il professor Baldini, da chi la usa, da chi la detiene, da chi la possiede. Per quanto riguarda chat e GPT, come si diceva prima, che ormai sono non so quanti milioni di persone che già lo usano, ovviamente, creando ulteriori diseguaglianze anche in questo, ci sono oltre 3 milioni di bot per particolari contesti. Per cui, appunto, con l'embriogenesi, piuttosto che con la genetica, l'accoppiamento anche, l'intelligenza artificiale e genetica. È una cosa che ci cambia il mondo. Sarà, forse, quella la più grande rivoluzione. Non parliamo delle armi perché di quello, anche cercando, non si sa niente o si sa pochissimo. Ma invece si comincia a capire cosa sta succedendo da questo accoppiamento. E a me piacerebbe, in effetti, trovare qualche persona che ci racconti un po' meglio tra l'intelligenza artificiale e genetica. Hanno scoperto migliaia di proteine che non sapevano come erano fatte grazie all'intelligenza artificiale. E questo è un passo enorme avanti, no? Nel progresso medico. Per cui, come diceva prima la professoressa, ogni disciplina viene contaminata, stravolta e cambiata, mi viene da dire, proprio dall'uso dell'intelligenza artificiale e dalle nuove discipline che stanno nascendo intorno. Ecco, per cui, ce n'è. Bene, bene. La parola ancora alla nostra relatrice. Su, per concludere. Sì, io credo a tutto questo che avete detto, perché l'intelligenza artificiale, come lo avete già anche sottolineato, è come un medicinale, no? Lo puoi utilizzare per il bene come per il male. E dipende anche del dosaggio. Eh, sì. Che già, lì già non stiamo parlando del trasumanismo, lì è già il postumanismo. Si può essere la nuova forma di venire al mondo. Ci sono tante cose che bisogna chiedersi, ma che diciamo, anche l'intelligenza artificiale ci aiuta, ci facilita la vita, come è stato detto, che io stessa non vorrei tornare all'epoca in cui non c'era il smartphone e tante cose. Ma soltanto chiediamo la responsabilità, il corretto uso di questo. Cosa è successo con la bomba atomica, no? Ma dipende di noi, della nostra intelligenza, che è la vera intelligenza. L'intelligenza c'è una sola, la umana. L'altra non possiamo chiamarla intelligente. Noi abbiamo visto e stiamo vedendo tutte le difficoltà che a livello di comunità europea sta attraversando la messa a punto e l'approvazione definitiva, perché si continua a parlare che è stato approvato, ma l'approvazione definitiva ancora non l'abbiamo, di questa normativa sulla quale sono intervenute pesantemente le big tech americane e non soltanto, e sulla quale sono intervenuti gruppi che hanno interessi economici molto, ma molto forti e sempre più consolidati. E quindi potete capire che non è così facile come noi vorremmo. Il percorso è un percorso ad ostacoli ed è un percorso che diventa sempre più rischioso. La velocità, la velocità con cui vengono prodotti dei nuovi risultati. Io ricordo ancora, soltanto alcuni mesi fa, la necessità di almeno cinque minuti di filmato per poter riprodurre il modo di esprimersi, la mimica faciale di qualcosa di artificiale, per far dire a qualcuno insomma qualcosa. Pare che basti un minuto. e comunque poche immagini e pochissima registrazione audio per avere le inflessioni dialettali della persona che parla. Pensate, pensate e lo sentiremo. Andate, devo salutarvi. Alla prossima. Grazie. Grazie. Ai riflessi politici che tutto questo comporta e comporterà quando abbiamo di fronte a noi grandi tornate elettorali con realtà che si stanno attrezzando pesantemente. Ma direi che veramente qua possiamo chiudere. Grazie, grazie, grazie alla nostra relatrice, alla chiarezza con cui ha affrontato tematiche così complesse, ci ha fatto capire la loro utilizzazione già in atto o in prospettiva e direi che di meglio non potevamo iniziare. Benvenuti. Grazie. Grazie e al prossimo incontro. Buona serata a tutti.